Sesta vittoria consecutiva per l'Arezzo Calcio Femminile che ha battuto la Roma decimo quarto nella sedicesima giornata di campionato di Serie C Girone C, altri tre punti fondamentali per le ragazze di Mister Pelliccione che consentono a Lea Maranto di restare al secondo posto in classifica dietro la capolista Bologna. Lea Maranto si presentano in campo con il consueto 4-3-1-2, a rientro dal primo Paganini come vertice basso del centro campo e Avendato che ha agito sulla fascia sinistra. Le ragazze sono entrate in campo con una maglia speciale per promuovere l'attività dell'associazione Pronto Donna di Arezzo contro ogni forma di violenza sulle donne. L'Arezzo prende subito in mano la partita e sblocca il risultato al ventunesimo con Razzolini che sottoportano sbaglia e batte Quartullo. La numero 9 a Maranto aveva già avuto due grosse occasioni nei minuti iniziali del match. Pochi giri di lancette e al ventiquattresimo arriva il raddoppio con Ceccarelli che raccoglie di testa un corner battuto da Paganini. Ancora pochi minuti e al ventisettesimo l'Arezzo trova il terzo gol con Gnisci che tutta sola in aria non sbaglia e trasforma l'assist dalla destra di Razzolini. Lea Maranto hanno pienamente il controllo del gioco e non rischiano praticamente niente con Valgimigli mai chiamata in causa. Al trentacinquesimo arriva la quarta rete di giornata sempre con Gnisci che con un tiro cross inganna Quartullo e realizza la sua decima rete stagionale. Dopo soli due minuti l'Arezzo fa il 5-0 con una posizione dalla lunga distanza che trova impreparata la numero 12 della Roma decimo quarto. Nella ripresa il risultato non cambia e l'Arezzo con questa vittoria si porta 40 punti in classifica. Il prossimo impegno è fissato per domenica 9 maggio in casa della Sassari Torres per il primo degli scontri diretti di questo finale di stagione. Dobbiamo sempre lavorare per cercare gli spazi per andare dentro alla conclusione. Quello che un po' più risalta come sempre è che prima di riuscire a realizzare la prima rete sprechiamo un po' troppo. perché poi se andiamo a vedere il primo go già avevamo avuto prima 4-5 occasioni semplici diciamo però andiamo sempre un po' a cercare di rimandare a fare l'1-0 che poi una volta fatto l'1-0 poi la partita cambia già a registro e a quel punto la metti su un discorso un po' più in discesa. Ora come ora tutte le partite che andiamo a affrontare rimangono delle partite importanti per noi proprio per quello che sarà il proseguo del nostro campionato quindi cerchiamo di approcciarla al meglio come fosse una finale. È stata una partita inizialmente ci abbiamo messo un po' a sbloccarci però una volta fatto il primo gol abbiamo preso il via. E venerdì si parte per la Sardegna? Sì partiamo in trasferta venerdì così appunto il sabato abbiamo tempo di fare un piccolo allenamento in Sardegna e poi la domenica il grande match. Si sapevano fin dall'inizio del campionato che Torres aveva un'ottima squadra e quindi sicuramente aspettavamo questa partita e adesso mancano pochi giorni e qui poi si decidono tante cose. L'avete già affrontata qui a D'Arezzo come vi è sembrata? Difficile, difficile. Ce la siamo cavata, non dobbiamo avere paura ma dobbiamo andare con molta grinta.